Domani si scendere in campo per la 22esima giornata di campionato e allo stadio Pasqualino Ferrante è previsto il match tra l'FC Matese ed il Tivoli. I Matesini sono reduci da un'ennesima sconfitta rimediata lo scorso turno fuori casa contro l'Atletico Ascoli, che con un solo gol al 58esimo di Minicucci ha conquistato la vittoria salendo a 25 punti in classifica. C'è tanta amarezza in casa Verde Oro per il 13esimo KO stagionale. Ora il cammino si fa sempre più duro per i ragazzi di Mister Urbano, ancora più lontani dal principale obiettivo della stagione, vale a dire la salvezza. Da qui in avanti sarà necessario impegnarsi a fare punti il prima possibile. Attualmente la squadra di Piedimonte chiude la classifica del girone F con un piccolo bottino di 16 punti. Il lavoro di questa settimana è stato intenso in vista dell'impegno di domani contro il Tivoli, momentaneamente al 13esimo posto in classifica, con sulle spalle 6 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte. I laziali arriveranno a Piedimonte con l'obiettivo di dare continuità al successo di domenica scorsa e di conquistare punti in ottica salvezza. Notizia ufficiale, la società del Matese comunica di aver raggiunto l'accordo con il Monopoli per l'arrivo di Michele Collocolo, l'attaccante anno 2005 che potrebbe fare il suo esordio domani. Riguardo alla formazione, il tecnico campano potrebbe operare qualche modifica, viste le indisponibilità di Ricciardi e Russo. Tre pali, Rinaldini in difesa, Gaiardini, Filosa, Cassese e Lesi. Al centro del campo, Langellotti, Ricamato e Paswe. Attacco composto da Galesio, Napoletano e Collocolo. Con fischio d'inizio alle ore 14.30, FC Matese e Tivoli Calcio sarà diretta da Andrea Scarano di Seregno, assistito da Marco Crostella di Foligno e Alessio Proietti di Terni.